Benvenuti in Tessiland News. Oggi vi presentiamo un prodotto che ci avete richiesto in tanti, i fermanodo. Tessiland però ha deciso di presentarvi in due varianti differenti, i fermanodo gommati color e i fermanodo metal. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Analizziamo ora nel dettaglio il fermanodo color gommato. Questo blocca cordoncino presenta il doppio foro all'interno del quale noi abbiamo fatto passare questo cordoncino per mostrare il risultato finale del vostro lavoro. Ha una chiusura a molla e presenta lateralmente delle rifiniture in metallo. Ha una dimensione di 25 mm x 8. Vi ricordiamo che il blocca cordoncino arriverà con un fermo in plastica, quindi vi raccomandiamo di fare attenzione nel momento in cui andremo ad applicarlo al vostro lavoro, in quanto le due estremità vanno tenute ferme, altrimenti potrebbero sganciarsi. Ed è disponibile in diverse colorazioni che ora vi illustreremo. Questa che abbiamo visto fino in ora è la colorazione lilla. Questa è la colorazione fucsia. Questa è la colorazione giallo. Questa è la colorazione lime. Questa è la colorazione grigio. Questa è la colorazione turchese. Vediamo ora la seconda variante. Un blocca cordoncino con doppio foro e chiusura a molla. Un unico pulsante di chiusura. Il materiale è il metallo e le sue dimensioni sono di 25 mm x 10. È disponibile in diverse colorazioni che ora andremo ad analizzare. Questa che abbiamo appena visto è la variante oro. Questa è la colorazione argento old. Questa è la colorazione canna di fucile. Ed infine la versione bronzo. Come abbiamo appena visto, questi prodotti si prestano per molteplici utilizzi. Potreste utilizzarli per le vostre borse, per gli zainetti dei più piccoli, oppure per delle felpe con cappuccio, per un giubbotto. Sono disponibili inoltre in diversi materiali e diverse colorazioni, perfetti per abbinarli alle più disparate creazioni. Ora non vi resta che scegliere quello che preferite. Prima di salutarvi, vi ricordo di attivare la campanella e di iscrivervi al nostro canale YouTube, così da non perdere nessuna delle nostre novità e di seguirci su tutti i nostri social Facebook, Instagram e TikTok. Un saluto e ci vediamo al prossimo news!